Avete scelto Batman, l'uomo pipistrello, il cavaliere oscuro, il crociato incappucciato, credo che abbia tantissimi nomi questo cacchio di personaggio. Andiamo a vedere le differenze, voglio farvi una sorta di comparison review, recensione di comparazione con la versione di Arkham Asylum, del box set di Arkham Asylum che vedete qui alla vostra sinistra. Sono praticamente la stessa action figure, sono davvero poche le differenze, più che altro legate alle differenze ovviamente di costume tra le due versioni. Innanzitutto gli stivali, vedete, sono leggermente differenti, un po' più decorati quelli di Arkham City, più lisci invece più lineari quelli di Arkham Asylum. Stessa cosa per gli avambracci, andiamo a vedere. Un'altra differenza è la cintura, vedete, è più piatta quella di Arkham Asylum, più semplice, più stilizzata, mentre è più complessa con tutte queste taschine, quella di Arkham City. E un'altra differenza è negli occhi. Vedete, quella di Arkham Asylum ha gli occhi dipinti, mentre quella di Arkham City ha gli occhi completamente bianchi. E anche la tonalità della pelle è leggermente differente, è un po' più chiara quella di Arkham City, è un po' più scura, è un po' più colorito il Batman di Arkham Asylum. Per il resto sono esattamente la stessa action figure, anche il mantello è esattamente lo stesso. L'articolazione è esattamente la stessa, andiamola a vedere rapidamente. La testa è su articolazione a sfera, il braccio può ruotare a 360 gradi, anche se è limitato ovviamente dal mantello e muoversi in fuori e in dentro. Nessuna rotazione nella parte alta del bicipite, c'è invece singolo snodo al gomito, rotazione all'avambraccio, nessuna rotazione alla vita o articolazione al torso, la gamba può andare in avanti e indietro, anche se molto molto poco, singolo snodo al ginocchio e rotazione allo stivale. Per quanto riguarda gli accessori, Batman è sicuramente il più accessoriato di questo boxset, ha ben tre accessori. Innanzitutto il Batarang, completamente nero, richiudibile, molto bello. Poi abbiamo la pistolina che utilizza per spruzzare il liquido esplosivo, molto ben dettagliata. E poi abbiamo la Grapnel Gun in questa versione upgradeata, molto bella con questa colorazione blu e argento, molto complessa, vedete con questa, la parte diciamo anteriore è molto molto complessa, molto si vede che è un upgrade della classica Grapnel Gun. Cliccate su uno dei personaggi per vederne la recensione, oppure sull'annotazione qui in basso per le considerazioni finali sul boxset. Assicuratevi che le annotazioni siano attive, vi lascio ancora qualche secondo per decidere quale personaggio cliccare e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!